Il nuovo episodio di sangue ha fatto ripiombare la città di Canicattin e la paura perché ad essere uccisi sono stati due fratelli imprenditori del luogo che nel 1990 avevano perso un altro fratello ucciso qualche giorno dopo Natale in quella che da lì a poco sarebbe esplosa come la cruenta guerra di mafia tra Cosa Nostra e Stidda. Ieri sera sono stati trovati in contrada Deliella in territorio di Caltanissetta a 100 metri l'uno dall'altro e corpi di Filippo Lamonaca, 74 anni, e quello carbonizzato presumibilmente del fratello Calogero di 76 anni, entrambi imprenditori agricoli di Canicattin. I carabinieri hanno cercato di costruire la complessa dinamica di quanto accaduto ieri in un cascinale nelle campagne di Delia. Filippo Lamonaca sarebbe stato ucciso, secondo una prima ricostruzione, con un colpo di pietra alla testa che gli ha fracassato il cranio. L'altro corpo è carbonizzato. Quest'ultimo si trovava a terra accanto ad un'auto di proprietà di uno dei due andata a fuoco. A contattare i carabinieri sono stati i residenti delle abitazioni vicine che hanno visto l'auto andare a fuoco. I carabinieri stanno cercando di ricostruire la complessa dinamica di quanto accaduto, non escludendo alcuna pista. Le modalità del duplice delitto, ammesso che vengano confermate, lascerebbero ipotizzare un'azione non preventivata da parte dei killer. I rilievi dei carabinieri alla luce del sole sono ripresi questa mattina. Non ci sono certezze. Gli investigatori si muovono, del resto, ancora nell'ambito delle ipotesi, ma pare che il duplice delitto possa essere stato messo a segno da più persone. Non è stata ancora esclusa, però, la possibilità che ad agire sia stata un'unica persona. La Procura della Repubblica di Caltanissetta, nelle prossime ore, disporrà l'autopsia su entrambe le salme. Un esame indispensabile per ricostruire con certezza medico-scientifica come i due fratelli siano stati assassinati. Tra le primissime cose da accertare c'è l'interrogativo sull'eventuale utilizzo di armi. Nel frattempo, come procedura investigativa esige, verranno ascoltati tutti i familiari e conoscenti delle due vittime. La famiglia Lamonaca è molto nota a Canicattì. Calogero Lamonaca era stato assessore ai lavori pubblici nella giunta della loro sindaco Carmelo Cammalleri, ma sono passati quasi vent'anni. Altre due sorelle sono state per anni le titolari di una rinomata gioielleria. Adesso sono tre i fratelli imprenditori agricoli tutti assassinati, visto che anche Antonio era stato ucciso nel 1990 quando aveva 49 anni. Era il 27 dicembre. I due fratelli trovati uccisi ieri non hanno mai avuto precedenti penali.